La guerra fredda sta per finire. Il momento della discordia e il momento del dialogo. Il momento della tensione e il momento degli sgelo. Una gelida Ginevra accoglie Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev nel loro primo vertice. Reagan, di capi al Cremlino, ne ha visti succedersi quattro. In cinque anni di presidenza finora non ne aveva incontrato nessuno. Il suo primo obiettivo, giungendo qui a Ginevra, era proprio questo. Evitare di passare alla storia come il primo presidente americano dopo Hoover senza contatti diretti con la controparte sovietica. Mikhail Gorbachev, il primo leader del Cremlino nato dopo la rivoluzione di ottobre, ha anche egli un risultato da raggiungere. Non tornare a Mosca a mani vuote. Apparire come l'uomo che rilancia il dialogo e non la guerra fredda. Oggi oltre quattro ore di colloqui, domani altrettante. Giovedì forse una coda. Per una possibile dichiarazione comune o un'ugualmente possibile firma di documenti. Metà del tempo Reagan e Gorbachev lo hanno trascorso a tu per tu, facendo anche una breve passeggiata in riva al lago e una chiacchierata accanto al caminetto, alla sola presenza degli interpreti, in un'atmosfera che le due parti definiscono buona. Più di 3.000 giornalisti giunti da ogni punto della terra affollano tre grandi sale stampa. Un'altalena di umori, cauti ottimismi e docce fredde. La pubblicazione di una lettera riservata di Kaspar Weinberger che invita Reagan a diffidare dei sovietici e a non fare concessioni mette in imbarazzo la delegazione americana. Ma il ministro della difesa, assicura Reagan, resterà al suo posto. Per gli americani sarà un successo se i due leader si lasceranno con la promessa di rivedersi. Non ci ameremo di più ma ci capiremo meglio, aveva detto Reagan qualche mese fa. E Gorbachev, al suo arrivo a Ginevra, i popoli del mondo attendono risultati positivi da questo incontro. Tranquilla, amabile, disincantata, Ginevra ha da sempre il ruolo di attutire le tensioni mondiali e da oggi fa da discreta ospite i due grandi da cui dipendono la pace e la guerra. L'umanità, ha detto John Kennedy, deve porre fine alla guerra o la guerra porrà fine all'umanità.